pesatrice bg easy standard affidabile semplice ed economica prodotta direttamente in italia nel nostro stabilimento in provincia di vicenza una volta impostato il peso desiderato basta premere il pedale o il pulsante di rilascio del prodotto che andrà a riversarsi all'interno del sacchetto preformato bg easy nella versione ha una bilancia doppio canale per formati più grandi riesce a pesare in maniera accurata e a riversare il prodotto velocemente è disponibile con plc e touchscreen per migliorare il caricamento del prodotto si consiglia il nastro con tramoggia di carico da terra il sistema vibrazioni garantisce un'estrema precisione del peso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti cio confezionatrici offre una vasta gamma di soluzioni semi automatiche e automatiche per pesare e confezionare una vasta gamma di prodotti per informazioni visita il nostro sito www.casrl.it oppure il nostro canale video www.confeziona.it grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti